E cos'è un pannello molto stato colvato? Bene, noi facciamo questi pannelli utilizzando lo sfogliato sia di pioppo, faggio o altri tipi di legno. Vengono incollati questi materiali e poi vengono messi in modo verticale o orizzontale da formare lo spessore del pannello. Dopodiché lo mettiamo nello stampo e con il sussidio dell'alta frequenza facciamo essiccare il pannello e fuoriesce la struttura burvata. Per esempio questa è una sezionatura di pannello dal quale abbiamo fatto noi, con delle nostre idee, una lampada che si trova nel catalogo della dimensione burvati che è un marchio da non depositare. Lavoriamo prevalentemente con altri e ci piace molto la sinergia di collaborare con altre aziende per trovare anche nuovi articoli oppure combinare altri prodotti alla nostra esperienza. Perché già da anni faccio queste esperienze di collaborare con altre aziende e sono già nati diversi oggetti, per esempio la nostra mattonella POP che l'abbiamo utilizzata sia nelle scenografie su Rai 2 per uno stand del SITEP di Carrara. Inoltre l'abbiamo utilizzata in un certo benessere. L'ultima nata è una lampada utilizzata con la mattonella 40x40 della POP. Questo è l'oggetto che abbiamo fatto proprio adesso, lo scorso mese, in collaborazione con l'ingegnere e anche un'azienda che fa mannelli fotovoltaici. Noi abbiamo messo la parte legno curvato e insieme all'altra azienda abbiamo utilizzato l'ecotrolley che è disegnato dalla designer Sabina Montalino.